Questo Natale cambia musica! Per il regalo perfetto lasciati ispirare dalle nuove collezioni delle migliori marche di gioielli ed orologi. Oro più, la tua gioielleria di fiducia nel centro di Voghera. Ti aspettiamo in via Emilia 109. Si è svolta sabato pomeriggio presso il Museo Beccari di Voghera una cerimonia voluta dalla sede vogherese di Avis, l'associazione dei volontari italiani del sangue, per premiare il comune di Voghera e Mauro Nespoli. Arciere è vincitore della medaglia d'oro nella gara squadra di tiro con l'arco alle Olimpiadi di Londra del 2012 come nuovi iscritti all'albo dei benemeriti per la vicinanza e il sostegno alla causa. Per il presidente di Avis, Daniele Bruno, la vicinanza dell'amministrazione locale e del campione sportivo rappresentano ciò che oggi è diventata l'associazione, non solo una realtà finalizzata alla raccolta del sangue ma anche uno strumento per salvaguardare la salute dei cittadini. Ne sono un esempio concreto i defibrillatori voluti da Avis ed installati in alcune zone strategiche della città come quello inaugurato pochi mesi fa in Piazza Duomo. Il sangue non è solo un tessuto del corpo ma anche una medicina, sottolinea giustamente Massimo Sciarretta, direttore sanitario di Avis. Il sangue non serve solo per le emergenze come i terremoti, anche se questi episodi fanno riflettere ed avvicinano alla causa persone che solitamente non pensano di donarlo. Il sangue serve quotidianamente, anche in situazioni che non destano scalpore come le malattie croniche. Per questo abbiamo bisogno che i cittadini donnino il sangue. Tra l'altro fa notare Sciarretta e scientificamente provato che la salute dei donatori è migliore rispetto a quella generale perché è sottoposti ogni tre mesi all'esame del sangue. Il commissario Pomponio, che ha ritirato il premio per il comune, ha fatto notare come in un periodo di assenza di politiche per la famiglia di giovani Avis punti molto proprio sul sensibilizzare le nuove generazioni. Ed è proprio ai più giovani che la cerimonia era dedicata. Sono stati premiati i vincitori di due borse di studio pensate per i neo-diciotenni che hanno deciso di abbracciare il sociale. Tra questi Giulia Soffiantini, Ilaria Rossi, Martino Mulattieri, Marcello Ghibaudo e Giulia Pedemonte. Indetto anche un concorso di disegno sul tema del dono, pensato per le scuole per l'infanzia. Tra le 14 iscritte, tre sono state le vincitrici. Al terzo posto, la scuola per l'infanzia Santa Caterina. In seconda posizione, la scuola di Torre Menapace. Mentre il primo premio è andato alla scuola per l'infanzia di Viale Karl Marx. Un modo per stare vicino ai nostri donatori più giovani. Ancora troppo pochi, fa notare il presidente Bruno. Mauro Nespoli, buonasera. Lei nel corso della cerimonia ha detto che farà di tutto per dare un grande contributo all'Avis. E quello che tra l'altro sa anche già facendo. Cosa significa per un campione di fama mondiale come lei poter contribuire a questa causa? Ma sicuramente è un momento dove poter dare un contributo ad altri senza pensare a me stesso. Io cerco di far passare un messaggio che con un piccolo dono, non lo considero neanche un sacrificio, e con un piccolo dono si può fare del bene. Potrebbe succedere di dover essere noi aver bisogno e mi piace pensare che qualora dovesse succedere anche noi riceveremo indietro quello che abbiamo dato. Quindi perché no benvenga la donazione di sangue. Durante la conferenza di poco fa il presidente Bruno ha sottolineato l'importanza di coinvolgere le nuove generazioni che sono ancora un po' latitanti. Lei da campione sportivo pensa che il suo contributo può essere ancora più determinante sotto questo punto di vista in tal senso oppure no? Assolutamente sì. Sicuramente abbinare questa iniziativa allo sport fa bene a entrambi. Fa bene a noi perché comunque permette al movimento sportivo di crescere, di crescere in salute. Fa sicuramente bene ad Avis perché c'è la possibilità di entrare in realtà magari come nel mio caso un pochino più di nicchia come sono quelle del tiro con l'arco. Quindi è un connubio sicuramente vincente come Avis e scuola, Avis e sport è sicuramente un'ottima iniziativa. Grazie mille e complimenti. A voi, grazie.